Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Ciao ragazzi, bentornati di nuovo sul mio canale Come state? Sono qui ritornata, non un vlogmas questa volta Ma un video vero e proprio dove creiamo insieme questo look natalizio Questo make up per le feste Spero che vi piaccia, vi invito a iscrivervi su tutti gli altri miei social Profilo Instagram soprattutto E andate a dare un'occhiata al mio blog The Candy Vlog Quindi ragazzi adesso vi lascio al video e a più tardi Ciao 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 Grazie a tutti 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 Quindi mi raccomando ragazzi Commentate Quindi ragazzi ci vediamo alla prossima Buone feste Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti